We will celebrate it together, because it is a great result. Siamo sicuramente segnate che siamo a venire in passare il passaggio dell'esercito. Tutti davvero un'amaizionante. È stato un'amaizionante esperienza. Il mio primo world champ. Abbiamo un grande amico amico. Quindi abbiamo fatto una buona race. È stato molto difficile. Alla linea ho visto che avevamo un po' davanti gli angoli. E' stato contento. E' stato contento per i miei colleghi. E' stato contento per il mio coach, per l'equipe di Francia. E spero che ci avvengano altre medaglie demain. Iniziare un mondiale assoluto. Era quasi impossibile per noi. E ora, la migliore del mondo. Siamo il mondo e i miei campeoni europei. Perché stavamo iniziando molto, molto, molto. E' stato una bella gara. L'abbiamo provato. Siamo pienamente soddisfatti. Siamo iniziando a fare lo sprint finale. Dove ci giocavamo tutti. Molto forte. Siamo iniziando a domani. Siamo iniziando a domani con il nostro lavoro. Siamo iniziando a domani. Siamo iniziando a domani. Grazie a tutti